Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono Davide e andiamo a fare l'analisi tecnica del mercato delle criptovalute per le settimane purtroppo che sono arrivate fino ad oggi perché purtroppo la settimana scorsa sono mancato e ho avuto da fare ho avuto un cambio di intenso di vita basta che andate a vedere insomma anzi ad ascoltare l'ultimo podcast vi consiglio di andarle ad ascoltare perché sono interessanti e inoltre ho anche aperto il canale su spotify quindi potete anche andarli ad ascoltare direttamente da spotify come vedete qui è apparsa una colla sparirà tra pochino probabilmente riporterò il computer in quel posto e qui ci metterò ancora una volta il divano che c'era prima questo perché mi darà la possibilità purtroppo nei momenti in cui il bambino non va a dormire e non dorme bene insomma di venire qui a dormire almeno nel caso in cui mi sveglia alle 3 e non prende più sonno ecco almeno per i primi periodi fino a quando poi non si riprende poi comunque quel divano è un divano letto e quindi servirà proprio per accogliere le persone che vengono e già vengono invece di portare sempre sopra e sotto il letto vabbè insomma questa è una parentesi che esula dall'analisi tecnica quindi prima di tutto vi ricordo che tutto ciò che verrà detto in questo video sono soltanto miei opinioni personali e non consigli finanziari e sono opinioni dettate da esperienza regressa e studi fatti quindi incominciamo partiamo direttamente da coin market cap andando a vedere la market cap che momentaneamente è di 295 miliardi e 800 milioni di dollari con 167 miliardi di dollari come volume di scambio nell'ultime 24 ore è una bitcoin dominance che dall'ultima settimana dall'ultimo giorno quindi due settimane fa che l'ho visto che mi pare fosse arrivata al 64 per cento è scesa ancora di più al 62 5 questo perché come sempre sapete benissimo che nel momento in cui le bitcoin sale anche le altre cripto salgono è la cosa fondamentale come vi dissi già tempo fa rispetto a bitcoin anche se bitcoin a livello potenziale come progetto come prodotto come criptovaluta ha una possibilità di crescere in maniera esponenziale arrivando anche a 100 mila dollari anche a 500 mila dollari ma 500 mila dollari rispetto ai 10 mila dollari momentanei non sono nient'altro che alla fine il 50 per quindi diciamo dovrebbero diventare un 5000 per cento se invece andassimo a prendere un ripple che solo in questo periodo ha fatto circa il 100 per cento con una crescita minima è logico che poi viene da sé che se uno acquista ripple a 0,24 centesimi e lo rivende a 3 dollari a 10 dollari a 20 dollari quindi non tantissimo di più è vero anche che la circulating supply rispetto ai ripple di bitcoin è nettamente maggiore e bitcoin ha veramente una circulating impressionantemente piccola però questo non è detto che tutto ciò non possa essere comunque un fattore anche negativo perché come sapete per avere questa circulating così piccola è anche un problema a livello di transazioni un problema a livello di acquisti anche perché essendo una valuta che momentaneamente non viene scambiata utilizzata per vari scambi almeno non frequentemente e questo bitcoin come loro come qualsiasi altro materiale insomma che può essere accumulato viene accumulato proprio in questi enormi wallet che poi portano dietro di loro insomma anche addirittura milioni di bitcoin quindi comunque come ben capite è un po' difficile riuscire a entrare in bitcoin se non lo si è già acquistati o non lo si acquista in questi momenti perché nel momento in cui arriverà a 21 milioni di dollari sicuramente tutta la cripto luta sarà in possesso di qualcuno e già i 4 miliardi che vi dissi tempo fa sono comunque 4 scusate 4 milioni che vi dissi già tempo fa sono 4 milioni di coin perse tra vari wallet con password perse o magari scambi e frazioni lasciate nei vari wallet e quant'altro quindi come state ben capendo è un handicap da un lato e un diciamo un lato positivo dall'altro comunque andiamo a vedere bitcoin che momentaneamente segna i 10 mila dollari è tornata un'altra volta a 10 mila dollari un ethereum 279 dollari ripple 29 e abbiamo tezos che fa un più 15 oggi e poi vediamo nelle prime 20 posizioni nella 21esima abbiamo cosmos al 10% andiamo a vedere negli ultimi 7 giorni cosa è successo e possiamo vedere che bitcoin è sceso di un pochino di 1.7 ripple ethereum è salita dell'8% ripple fa il pari mentre poi le altre cripto lute ci sono un meno 16 su sv un meno 15 su eos un meno 22 su ethereum classic che in effetti era stato pompato veramente tanto e poi un meno 14 su dash andiamo a vedere bitcoin direttamente nella sua situazione possiamo vedere che c'è stata una golden cross quindi la 50 sopra la 200 periodi una cosa importantissima questo potrebbe essere un ottimo momento per andare ad acquistare questo perché basandoci su questa cross significa che potrebbe essere un inizio di crescita un inizio di crescita costante come vedete ha fatto un su si è ritracciato su ritracciato su ritracciato questo ritracciamento è molto simile a questo perché perché il minimo del ritracciamento sta toccando il massimo di questo pump come anche in questo caso il minimo di questo ritracciamento ha toccato il massimo di questo pump quindi potrebbe essere tranquillamente un momento nel quale oggi andando ad acquistare potremmo ritrovarci una criptovaluta ai 18 che è un livello di prezzo importante basta vedere il passato è stato sempre un tetto di molti movimenti dopodiché rotti i 18 potremmo andarlo a ritrovare come criptovaluta prima ai 12 e poi successivamente logicamente ai 13 ora questo dei 12 vado a segnarlo come è giusto che venga segnato in questo caso ok scusate ma sto colorando la linea sbagliata comunque stavo dicendo questo dei 12 alla fin fine è un qualcosa che può essere facilmente toccato con un mercato in questo stato che è totalmente in fomo quindi fear of missing out quindi la paura di rimanere fuori dal pump che ci sta che sta insomma lo stiamo vedendo in questo momento alla fine dall'ultimo periodo quindi quando ha toccato il minimo di 6 e 5 fino ad oggi anzi fino al massimo che è stato il 14 quindi diciamo all'incirca a nella vicinanza di san valentino abbiamo avuto un massimo del 60 per cento ora ricordatevi questo 60 per cento andiamo a vedere su ripple su ethereum ethereum dal punto più basso fino al più alto ha fatto già un 138 per cento come vi dissi già l'altra volta ragazzi questa criptovaluta a questo livello di prezzo in questo cluster di prezzo è un affare acquistarlo vedete come è salita in maniera vertiginosa qui è praticamente tutta manipolazione perché avere una salita del genere di una criptovaluta che praticamente sta facendo schifo da circa vediamo subito quindi sono a giornaliero quindi da circa 185 giorni quindi praticamente più di un terzo di un anno si capisce bene che è soltanto un pump dovuto a qualche manipolazione di mercato in questo caso ethereum sta viaggiando all'interno di un cluster di prezzo che conosciamo abbastanza bene basta vedere qui da qui a qui e dobbiamo stare attenti a vedere cosa succede perché al momento in cui uscirà da questo cluster di prezzo in positivo potremmo andarlo a ritrovare a 360 mentre uscendo dal cluster di prezzo in negativo potremmo ritrovarlo all'interno di quest'altro qui quello blu da 221 a 160 dollari comunque anche qui la golden cross è nettamente positiva vedete la 50 periodi quanto è impennata e secondo me non è un problema che potrebbe verificarsi da qui a poco tempo ultima criptovaluta ossia ripple ripple che sta facendo un qualcosa di veramente esagerato guardate qui dal punto più basso fino al punto più alto ha fatto un 92% meno di ethereum ma sicuramente con una criptovaluta che costava praticamente 18 centesimi e ha toccato il punto massimo a 33 quindi un 83% netto ragazzi è una cosa esagerata ora questo cluster di prezzo tra i 0,30 e i 0,26 centesimi non è il cluster di prezzo migliore nel quale andare ad acquistare sicuramente ci sarà una golden cross anche in questo caso golden cross che ancora si deve andare a verificare tra la 50 e la 200 periodi ma non è la miglior cosa perché? perché a meno che non esca in maniera netta da questo cluster di prezzo potrebbe soltanto essere una parvenza di crescita quindi magari andare ancora una volta a ritoccare questi massimi che potremmo andare a spostare tranquillamente agli 0,31 invece di lasciarlo come prima mentre andare a pensare di poter entrare in questo momento nel mercato significa andare a giocare d'azzardo anche perché è quasi perfettamente a metà di questo cluster di prezzo dal mio punto di vista momentaneamente ripple non è un investimento che ti può dare una certezza di vittoria Ethereum altrettanto perché come vi ho detto la crescita è esponenziale anche se comunque con questa crescita qui della 50 periodi sembra realmente che possa andare a toccare ancora una volta i 300 e passa dollari mentre per Bitcoin, Bitcoin è una criptovaluta che anche in questo caso anche a questo livello di prezzo è sicuramente meglio acquistare che attendere ancora certamente questi momenti erano molto molto più vantaggiosi però ragazzi col seno di poi tutti quanti saremmo realmente zio paperone e per quanto riguarda l'analisi tecnica del mercato delle criptovalute per questa settimana e la settimana precedente nella quale purtroppo sono mancato è tutto io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e di andare a visitare il mio account Instagram DavideVasco85 grazie per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti